La birra di cui vorrei parlarvi oggi è la panchipa. In questo caso ce l'ho in bottiglia, ma vorrei fare un confronto con la stessa birra sia in bottiglia sia alla spina. Quindi ora andrò anche a spillarla alla spina per fare un confronto tra queste due versioni della stessa birra. Ok, vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Il produttore è Brewdog, siamo in Scozia, lo stile è una IPA, una India Pale Ale. Il grado alcolico di questa birra è 5,6 gradi. Il bicchiere che vi consiglio di utilizzare è una pinta e non si tratta di un primo assaggio. Allora, inizialmente due parole sulla birra, prima di andare a spillare la stessa versione alla spina, così da averle versate più o meno nello stesso momento e fare un confronto diretto. Brewdog è un birrificio nato nel 2007, siamo in Scozia, questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, la panchipa. In generale opera molto su questo stile, sulle IPA o IPA appunto. Il nome è India Pale Ale, deriva dal fatto che questo genere di birre sono birre molto lupolate perché il lupolo ha una blanda attività battericida e anche conservante. I produttori di birra inglesi durante il periodo delle colonie mandavano la birra in India che doveva fare comunque un discreto viaggio, una quantità di strada non indifferente per arrivare fino in India e non era semplicissima da trasportare, sicuramente non poteva viaggiare su mezzi refrigerati. Di conseguenza non era insolito che la birra non andasse proprio, cioè che andasse un po' male, comunque non arrivasse proprio nelle migliori delle condizioni. Detto ciò ci si è accorti che appunto il lupolo, cioè ci si è accorti, si conoscevano già le proprietà conservanti del lupolo ed è uno dei motivi per cui poi è stato utilizzato infatti al posto del suo andenato che era il grut, un mix di spezie. Si è pensato quindi di mettere più lupolo di quanto se ne usasse in quel momento e quindi si sono create queste birre molto lupolate ma che si conservavano meglio durante il viaggio e quindi arrivavano in India appunto. Quindi queste pale ale, birre chiare, alta fermentazione, inglesi per l'India. Non sicuramente per la popolazione indiana ma probabilmente per i vari nobili burocrati militari che c'era là in India che voleva bersi le birre che beveva appunto in patria. Detto ciò appunto la panchipa è una delle birre più famose per quanto riguarda la bottiglia. Come tutte le birre di Brudog hanno il tappo a tinta unita con il loro logo che è un cane ma con molta fantasia ci vediamo il cane stilizzato. Le birre di Brudog hanno tutto questo fondo diciamo bianco con una texture fatta da alcune lettere sovrapposte, in questo caso azzurra, azzurre queste lettere e il testo Brudog, panchipa, i gradi, insomma un po' di caratteristiche eccetera eccetera. Questa è l'etichetta classica di tutte le birre di Brudog. A me personalmente ma appunto a un'opinione personale non piace molto il fatto che ci sia questo stile estremamente minimal cioè non c'è nulla di grafico a parte il loro logo e tutto il resto è testo. Addirittura le parti non occupate dal testo sono occupate da linee verticali per riempire lo spazio. Io prezzo molto le etichette particolarmente arzigolate con disegni anche molto complessi e quindi questo stile qui un po' minimalista non mi fa impazzire. Dentro ciò è una scelta del tutto appunto commerciale che non va in alcun modo a influire sulla qualità dei prodotti. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti Brudog bisognerebbe anche in questo caso discutere perché è un birrificio, è nato appunto come birrificio indipendente e così ancora è. È nato con l'idea di un birrificio mi verrebbe da dire sociale nel senso che venivano vendute tuttora, vengono vendute quote a chi vuole contribuire che acquista appunto queste e queste quote e poi dopo in una sorta di come se si comprassero delle azioni di Brudog che poi dopo restituisce se va bene con gli interessi. Al di là di ciò Brudog è un birrificio che si è espanso molto soprattutto negli ultimi anni e raggiunge livelli qualitativi e quantitativi soprattutto davvero davvero impressionanti. Nel mondo degli amanti della birra c'è un po' questa gara, non so come dire, questa tendenza a scartare i birrifici che fanno i volumi molto molto elevati. È una cosa che personalmente non sono ancora riuscito a comprendere ma se vi capita di bazzicare un po' nel mondo degli appassionati di birra scoprirete che è un mondo fondamentalmente quasi solo maschile di uomini che fanno a gara chi ce l'ha più piccolo e per piccolo intendo il birrificio di riferimento. Cioè quando un birrificio incomincia a fare una quantità superiore a quello che per qualcuno è ritenuto un po' a un limite allora da quel momento in poi il birrificio è venduto o comunque non è più artigianale, non è più micro birrificio e così via. Giusto per citarvi un caso famosissimo c'è il birrificio italiano Ibu che da diversi anni è ormai stato acquisito da Heineken. Ovviamente se voi vi dovesse capitare di dire ai più nerd del mondo della birra che avete bevuto una birra di Ibu ovviamente verrete considerati come venduti, avete bevuto una schifezza e cose di questo tipo. Sarei molto curioso di sapere cosa ne pensavano le stesse persone prima dell'acquisizione del birrificio da parte appunto di un gruppo industriale come Heineken. Detto ciò appunto in tutti gli ambiti che sia la musica indipendente, che sia l'arte, che sia la produzione di birra ci sarà sempre qualcuno che cerca ovviamente di essere un po' più indipendente o più hipster o più ricercato o più nerd di altri. In questo caso, secondo me, al di là dei volumi che fa Brewdog, che al momento non conosco o comunque non ho un'idea esattamente dell'ordine di grandezza degli ettolitri che produce annualmente Brewdog mi limito a pensare alla qualità del prodotto. Secondo me la qualità dei prodotti Brewdog è davvero buona per quanto riguarda le IPA non sto dicendo che siano le migliori IPA anzi credo che ci siano IPA molto più buone della Pank IPA ma detto ciò resta un validissimo prodotto. Poi, se produce più ettolitri di quanti non ne facciano birrifici molto più piccoli è un altro discorso ma ciò che dobbiamo chiederci, secondo me, è se questa birra ci sta piacendo e se è buona e se è fatta con buone materie. Direi che ho parlato abbastanza vado a spillare la birra e torno subito. Ok, eccomi qui con la IPA appena spillata che è questa qui adesso mi si era già a smontarsi la schiuma ma nel frattempo versiamo quella in bottiglia e facciamo un po' un confronto per capire cosa è meglio. Al di là delle quantità che ovviamente sono differenti questo bicchiere qui è una pinta imperiale è una pinta inglese quindi da 56-58 dipende un po' dal produttore del bicchiere mentre questo qua è 33 quindi ovviamente sarà un pochino meno. Allora, due parole su spina versus bottiglia. Per quanto riguarda la spina ci sono tanti fattori che entrano in gioco e che quindi dipendono dalla qualità dell'impianto da quanti giorni è stato aperto il fusto dalla pulizia, della manutenzione che viene o a volte non viene fatta l'impianto eccetera eccetera. La bottiglia infatti siamo sicuri che così come è stata fatta dal produttore arriva a noi. Fino a un certo punto perché come è stata tenuta la bottiglia dove è stata tenuta, è stata esposta al sole, al caldo soprattutto sulle birre lupolate sole, raggi solari, luce, caldo distruggono completamente la qualità di alcuni componenti della birra. Le birre in bottiglie scure sono salvate un po' dal fatto che il colore marrone filtra tanti dei raggi solari tante delle lunghezze d'onda vengono filtrate dal marrone però non è infallibile comunque deve essere conservata correttamente. Ecco, se vedete birre, non faccio nomi ma birre in bottiglie completamente trasparenti già potrete farvi un'idea di che tipo di birra sarà ammesso che la vogliate chiamare birra. Ogni riferimento a prodotti messicani è completamente voluto. Detto ciò, il colore sembra più o meno identico. La schiuma è differente probabilmente per il fatto che questa sia già parzialmente smontata perché sono dovuto correre qui con la bottiglia con la pinta in mano in questo caso invece è un pochino più persistente. Il colore della schiuma appunto è uguale la grana è un po' più fine per quanto riguarda la spina un pochino più irregolare grossolana per la bottiglia il colore invece direi che è praticamente identico forse forse leggermente più torbida in bottiglia potrebbe essere che ci sia un fondo di lievito che io adesso senza pensarci ho versato mentre invece per quanto riguarda la spina tutto il fondo resta sul fondo del fusto ma qui siamo ancora a inizio fusto di conseguenza è molto più limpida passiamo all'analisi quindi olfattiva questa è una biera che conosco quasi a memoria ma allora innanzitutto intensità olfattiva è un po' maggiore l'intensità olfattiva per quanto riguarda la bottiglia non di molto ma è un po' più alta potrebbe appunto dipendere sia dal fatto che l'abbia aspirata qualche minuto fa ma anche dal fatto che comunque in bottiglia vengono conservati meglio certi certi aromi al naso ciò che c'è in entrambe le birre da esattamente lo stesso profumo cambia solo appunto l'intensità allora ci sono diverse cose qui interessanti colpisce subito secondo me un profumo molto fruttato che va verso direi la frutta tropicale senza scendere nel dettaglio perché non ne sarei in grado ma ricorda appunto la frutta tropicale c'è anche una non intensissima ma comunque buona sentore di malto abbastanza leggero e anche sempre abbastanza leggero dei luppoli resinosi che sarebbe quello che secondo me dovremmo aspettarci in una ipa qui c'è il floreale che comunque scusate c'è il fruttato che comunque copre tanto e copre tutto il resto è molto buono questo profumo a livello proprio di gusto secondo me è un po' elevato per questa birra soprattutto perché conoscendo la birra è una birra amara quindi un ipa che arriva al naso subito con tutta questa frutta potrebbe far pensare a qualcosa di molto dolce cosa che poi in realtà non sarà vediamo adesso appunto in bocca come si presenta sono esattamente se non identiche quasi allora in bocca cosa arriva subito questa apertura maltata che dura davvero davvero poco perché i luppoli arrivano in maniera ovviamente molto prepotente molto persistenti quindi c'è una lupolatura generosa come richiesta dallo stile è abbastanza persistente secondo me è una birra molto buona perché riesce a ripulire perfettamente la la nostra bocca soprattutto anche se l'accompagnate a un pasto anche con un pasto magari con qualcosa di grasso carne salumi cose di questo tipo detto ciò differenze tra spina e bottiglia pensavo di percepire una maggiore differenza per quanto riguarda la carbonazione così non è anche qui però bisogna fare tutte le precisazioni del caso cioè come è stata spillata è stata spillata la tedesca è stata spillata con il micchiere a 45 gradi è stata spillata in un colpo solo in due colpi bisogna vedere queste cose qui che vanno a influire tantissimo sulla saturazione anche se e qui è bene precisare panchipa bruidog scusate mette queste birre solo in fusti kick egg che sono una tipologia di fusto particolare qui si potrebbe fare anche una puntata solo sui fusti sono fusti in cui non avviene un contatto diretto tra anidride carbonica e birra di conseguenza la birra mantiene la stessa saturazione quindi la stessa quantità di anidride carbonica disciolta all'interno della birra che aveva nel momento della produzione questo credo sia il motivo per cui è molto molto simile la carbonazione tra le due per quanto riguarda la bottiglia ovviamente se l'abbiamo versata molto piano con il bicchiere a 45 gradi avrà una certa carbonazione se la verso dall'alto facendola battere contro il fondo si desatura completamente esce tutta la CO2 e di conseguenza avrà una birra piatta in questo caso la birra in bottiglia è leggermente meno carbonata probabilmente potrebbe essere dovuto al fatto che l'abbia versata in questo modo e questa invece è leggermente più carbonata questa è lo spillata alla spina quindi bicchiere a 45 gradi in un colpo solo eliminando ovviamente la prima parte ma finendo tutta la spillatura all'interno del bicchiere quindi mantiene una buona carbonazione che dire per questa tipologia di birra per i motivi che abbiamo detto la tipologia di fusto e il modo in cui è stata versata la bottiglia non ci sono grandi differenze forse forse una leggera intensità maggiore a livello olfattivo di quella in bottiglia però mi viene in mente ora potrebbe anche in parte essere dovuta al fatto che la bottiglia era già fuori da qualche minuto mentre la spina è stata spillata con un sistema di raffreddamento suo quindi probabilmente questa birra è qualche grado un pochino più calda rispetto a questa di qualche grado detto ciò questa prova è stata forse un pochino meno entusiasmante di quanto immaginassi ma vorrei fare altre altre prove di questo tipo magari anche versando la birra in modi in modi differenti questo è quanto questa è la panchipa come vi dicevo se non conoscete Brudog è un po' il loro cavallo di battaglia vi fate una buona idea su come fa le IPA Brudog che direi direi in doppio scala è un po' 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 è un po'